La pace dei santi sia con voi. Il 5 novembre la Chiesa ricorda San Guido Maria Conforti, fondatore dei missionari saveriani. Non per la sua cagionevole salute, questo santo si perse d'animo. Acquistò una casa per formare giovani missionari. Nacque così la Pia Società Saveriana. I primi saveriani andarono in Cina nel 1899. Dovete lasciare l'incarico di arcivescovo di Ravenna per la sua salute. In seguito migliorò, tanto che il papa lo mandò vescovo di Parma, diocesi di cui è stato vicario generale. La resse per 25 anni, compiendo ben 5 visite pastorali nelle 300 parrocchie. Andò a trovare anche i missionari nel Celeste Impero. Morì nel 1931. È beato dal 1996 e santo nel 2011. Auguri a coloro che portano questo nome. Grazie a tutti.